PEGI 7 La maledizione della prima luna E spiega le vele che attendono azione mozzafiato E incredibili esplorazioni sottomarine Il divertimento continua attraverso i quattro film dei Pirati dei Caraibi Incluso il nuovo Oltre i confini del mare Forma una squadra con i tuoi amici Per un'entusiasmante avventura in cooperativa Hai vissuto l'avventura Ora costruisci la tua Lego Pirati dei Caraibi Il videogioco Ha! Oof! Oof! A presto! Oof! Oof! I Oof! I